Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Pokémon Oggi andiamo ad affrontare l'ultima palestra che ci rimane Ovvero quella di tipo ghiaccio E ovviamente tireremo dritto con il nostro Skelly Dirge Ok, già in prima fila Ora entriamo, andiamo a fare il login E vediamo che prova ci aspetta Dobbiamo andare qui a sinistra Raggiungere la personcina che c'è qua sopra Parlargli e poi dovrebbero farci far partire la nostra prova Dovrebbe essere questa qui, esatto, lo slalom sulla neve Vediamo un po' cosa ci dice Allora, bisogna salire in gruppo a un Pokémon Mettiamoci in questo piccolo esame e via Oh, guardate che bello la pista da scim Allora, vediamo di non beccare le bandierine, chiamiamole così E' pronto Coraidon? Andiamo! Ma posso correre? O meglio, posso anche volare? Ok, se posso volare è tipo la citto Vediamo, 1,30 Ok, non posso volare, perfetto Quindi devo proprio Ah, ma devo entrarci! Ma che... Va bene, scusate, non avevo capito Pensavo di doverle schivare Effettivamente così ha più senso Con le bandierine e i colori Quindi, ok No, l'ho mancata Ho questa sfida comunque rispetto a quella precedente Sicuramente molto meglio E molto più divertente Ok, l'ho presa 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 Ed eccoci qua Arrivati al traguardo stato C'è lì, c'è un raid Che magari andremo a fare dopo Bene, l'abbiamo superato E ora andiamo ad affrontare la capopalestra Oh! Ma è super carino questo Ma è lei la campionessa? Ah no, eccola Probabilmente è il suo Pokémon Ma come che è freddo? Ma scusa Se la capopalestra è di tipo ghiaccio È freddo? Beh, ci ho fatto i complimenti Per come siamo scivolati sulla neve Dopo che abbiamo capito Che le bandierine erano da centrale E non da Mancare Allora Vediamo un po' come funziona Dai Sfidiamoci Voglio la mia ultima medaglia E poi accedere alla Lega Pokémon Intanto ragazzi Prima di fare la Lega Finiremo I due Gli ultimi due capi Del Team Star Poi faremo la Lega I capi E infine Facciamo i dominanti Oppure prima della Lega Finisco la cosa del Team Star Vediamo Perché non so cosa succeda dopo Se quando li batti Tutti ti fanno fare direttamente La storia di Sila Oppure no Allora Questo siamo a un Beautifly In versione ghiaccio Allora io andrei di Terra Crystal Più la nostra canzone ardente Che fa sempre Figo In più ci bustiamo già l'attacco Già dal primo Pokémon Così poi gli tiriamo tutti dritti Per dritti Senza problemi E il primo è andato Passiamo al secondo Un Beartic Carino Ma anche lui si scioglierà davanti Al nostro canto infuocato Diamo sempre la nostra solita mossa Così ci bustiamo ancora di più l'attacco E' andato anche il secondo Passiamo al terzo C'è Titan Non l'ho mai sentito Non so che Pokémon sia Sono molto curioso Vediamo Ok Deduco sia L'evoluzione Del tipetto Che c'era prima Nel campo E' molto carino Cioè Grande e grosso Però ha il suo fascino Mi piace come Pokémon Direi che è andato al tappeto Anche lui Quindi possiamo passare Al quarto Pokémon Altaria Ok Questo è il Pokémon Che terracristallizzerà Canzone ardente Tanto adesso Tu terracristallizzi Quindi diventa tipo ghiaccio E io Te lo sciolgo Il terracristallizzato Un tipo ghiaccio L'abbiamo mai vista? Non so Questa me la guardo Ah va bene Ha letteralmente Un cryogonal Sopra la testa Bello Oddio ma c'è anche la bandana Bellissima Tifone Ok Non ci ha fatto praticamente niente Però ci ha stunnato Cavolo Questo potrebbe essere un problema No Si è colpito da solo Mannaggia Va bene Vediamo di nuovo Canzone ardente Ah questo è l'unico Pokémon Con cui volevo affrontare la palestra Quindi per favore Si tiri la tua canzone ardente Mi fai un bel favore Grazie Però dovrebbe essere andata Al tappeto senza problemi Esatto E anche Altaria è andata giù Quindi dovremmo aver vinto la palestra E un bel GG Per il nostro coccodrillone Hai decisamente sciolto il ghiaccio Eh già Ho infuocato la battaglia Allora Mi dia la mia medaglia Per favore Grazie Vediamo che foto strana Facciamo adesso Beh dai Carina Bene E anche l'ultima medaglia È stata presa Tiene anche questa Ah è vero L'MT Cosa ci dà Forti ghiaccio Non l'abbiamo neanche visto in azione Ma credo sia una mossa figa Deve essere tipo Un turbo fuoco O Il mulinello Oh C'è Nemi la campionessa Beh Ci stanno facendo i complimenti E ora Posso venire ad affrontarti Certo che mi Sottoporrò All'esame dei campioni Altro che Allora Quindi Nemi è già pronta A risfidarci Dopo la Lega O prima Vedremo Anche lei è ansiosa Di vederci Lottare Bene Ragazzi Dopo aver battuto la palestra Aver ricevuto i complimenti Sia da Nemi Che dalla campionessa Io Salvo qui E Vi saluto Ci vediamo Nel prossimo video Ciao